e ho appena ho appena scoperto una funzione fighissima di questo coso allora prima di tutto mi faccio una fotografica ok seconda cosa allora se tengo le levette così va in modalità accensione una volta che forse è meglio farlo quando ce l'ho in mano se la mia affetto le dita dicevo quando in modalità accensione ecco perfetto mi sono affettato le dita perfetto allora mi sono fatto discretamente male ottimo come piace a me e la cosa bella è che mentre non filmavo prima ce l'ho fatta tranquillamente e adesso invece mi sono affettato le dita e niente non posso farvi vedere la mano ma è discretamente sanguinolenta come piace a me pro memoria mai più fare una roba del genere al buio a quanto pare al buio i sensori del giroscopio non funziona così bene oltre al fatto che se cacci sotto la mano e non sei esattamente stabile col drone rischi di farti male ho pulito il liquido visto che non si può dire qui e diciamo questo non è proprio conciato benissimo cioè vabbè niente di grave sicuramente non come questo che vita di merda e vabbè passo e chiudo non so che ve lo state chiedendo tutti ma il drone sta bene non preoccupatevi non aumentatevi Grazie a tutti